Allora, la volontà e l'idea di farla è nata dall'ufficio migrazione della provincia di Trento. Su parte loro mi hanno convocato come diciamo drammatura regista della compagnia elementare per commissionarci uno spettacolo che parlasse di questo argomento, ovvero di chi parte, chi resta, per che parte, per che resta, quali sono i motivi che stanno alla base e trattare con dignità entrambe queste figure. Questo ha riscontrato diciamo il mio gusto e il mio desiderio un po' fin dall'inizio perché io mi sentivo sia chi parte che chi resta. Come facciamo sì che parlare di questo fatto che ci sono persone che vanno via o per lavoro o per desiderio o per curiosità a volte non è una scelta, a volte è un'imposizione perché senti che nel tuo paese non riesci a fare e anche chi rimane a volte si sente un codardo, si sente pigro, si sente da meno e invece io guardo chi resta con grande ammirazione perché sono anche quelli che... c'è tanta gente che si rimbocca, non c'è una frontiera che divide te o me e che io posso tranquillamente decidere a 40 anni di continuare la mia vita in Francia. se è quello che la mia vita o il mio percorso vuole che io faccia o che io voglio fare. Ho scelto di raccontare tutto ciò attraverso una famiglia media italiana, una nonna, due fratelli, uno che parte e uno che resta e una vadante ucraina che si occupa della nonna perché comunque c'è una fetta enorme di emigranti che stanno sostituendo noi e anche sostituendo tante cose che noi facciamo o che facevamo in passato. Abbiamo deciso di raccontare alcuni momenti dello spettacolo attraverso la musica, attraverso emozioni diverse che solo la canzone può trasmettere. Anche perché oggi siamo molto abituati a vivere la musica in un altro modo e allora perché il teatro non può accogliere questo tipo di linguaggio. Credo che invece l'importante sia concentrarsi su che cosa vogliamo fare più che dove lo vogliamo fare. Sta nascendo una cultura nuova, quindi siamo solo che all'inizio del caos.